Buongiorno a tutti e benvenuti a questa lezione di grammatica sui pronomi personali complemento diretto. Nella lezione precedente abbiamo introdotto l'argomento generico sui pronomi, oggi invece ci concentreremo sui pronomi personali complemento diretto. Quando i pronomi personali si usano come complemento diretto hanno funzione di complemento oggetto della frase. Faccio una piccola premessa su che cosa sia un complemento oggetto e ovviamente la parte della frase che risponde alla domanda che cosa chi. Un esempio pratico, oggi io mangio una mela. Io è il soggetto della frase, mangio è il verbo di questa frase, l'azione. Che cosa mangio? Mangio una mela. Ecco, questa parte della frase rappresenta il complemento oggetto e la caratteristica di questo complemento in italiano è che non è mai anticipato da nessuna preposizione. Detto questo vado a vedere adesso cosa sono i pronomi personali complemento diretto. Qui abbiamo due forme, o meglio un'unica forma che però è divisa in due parti. La prima parte è la forma singolare, la seconda parte è la forma plurale. Andiamo a vedere lo schema e poi ci concentreremo meglio sull'utilizzo. La prima persona singolare è caratterizzata dal pronome personale mi, la seconda persona singolare dal pronome personale ti, la terza persona singolare si dividerà come sempre in maschile e femminile, lo e la. Mi ha colorato tutto, va bene. Per quanto riguarda il plurale abbiamo la prima persona plurale che è ci, la seconda persona plurale che è vi e la terza persona plurale che sarà divisa in maschile e femminile, li per il maschile e le per il femminile. Alcuni esempi pratici per quanto riguarda l'uso di questi pronomi. Noi guardiamo la televisione, noi è un soggetto, guardiamo è un'azione il verbo, che cosa guardiamo? La televisione, complemento oggetto. Se vogliamo utilizzare un pronome per sostituire questa parte della frase possiamo fare ricorso ai pronomi complemento diretto. Noi la guardiamo. La perché televisione è un nome femminile e la perché televisione è un nome singolare. Loro comprano il pane arabo. Loro lo comprano. Sostituiamo intera parte del complemento oggetto che è composto da più parole. Stessa cosa per due esempi a plurale. Giovanna ama molto chi? I figli. Giovanna li ama molto. Giorgio accompagna le sue sorelle a scuola. Giorgio le accompagna a scuola. I pronomi di terza persona singolare lo e la possono diventare l'apostrofo quando sono seguiti dal verbo avere. Per esempio lo ho fatto diventerà in italiano lo fatto. Questo è molto importante perché caratterizza il fatto che l'italiano diventa in questo modo una lingua contratta e molto più fluida quindi la pronuncia. Lo abbiamo detto potrà diventare l'abbiamo detto, l'hanno sentita diventerà l'hanno sentita, l'avevo portata diventerà l'avevo portata. Teniamo presente una cosa importante, la forma contratta in questo modo è la forma più usata e più comune sia nell'italiano scritto che nell'italiano parlato. Attenzione ci sono piccoli dettagli da chiarire. Qualche volta è possibile anche usare le forme me, te, lui, lei, noi, voi, loro se si vuole dare molto risalto al pronome. Noi vediamo lei significa noi vediamo proprio lei, lei e non altri. Se invece diciamo frasi come io amo te significa che io amo solo te, voglio evidenziare che amo proprio te al posto ovviamente di usare parole come io ti amo o noi la vediamo. Vediamo un po' nella seconda parte una piccola, diciamo così, un piccolo dettaglio sull'uso. I pronomi diretti si mettono dove e come, si mettono prima del verbo e sempre staccati dal verbo, se i verbi sono coniugati all'indicativo, al congiuntivo o al condizionale. Qui vediamo tre esempi, uno all'indicativo mangio il panino diventerà lo mangio. Se mangiassi il panino, abbiamo il congiuntivo, se lo mangiassi, mangerei, condizionale, il panino diventerà lo mangerei. Quindi attenzione, davanti al verbo è staccato, separato dal verbo. Diversa situazione se invece il verbo è coniugato all'infinito, all'imperativo o al gerundio. In questo caso verrà messo questo pronome dopo il verbo è unito al verbo. Posso mangiare il panino diventerà posso mangiarlo. Abbiamo mangiare che è un infinito. Mangia il panino, imperativo, mangialo. E mangiando il panino non avrai più fame, mangiando un gerundio diventerà mangiandolo non avrai più fame. Mi fermo qui per questa lezione. Nella prossima ci concentreremo sui pronomi personali indiretti, quindi che utilizzano appunto una forma differente sia di formazione che di utilizzo stesso. E per quest'oggi mi fermo qui. Grazie mille per la pazienza, per l'ascolto e ci vediamo alla prossima lezione di grammatica.